salve amici bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale i video di oggi sono davvero impressionanti prima di cominciare però voglio ricordarti di iscriverti al canale ricordati anche di mettermi un bel like alla fine del video adesso basta parlare cominciamo nel primo filmato viene ripresa la celebrazione di una messa il video mostra che durante la celebrazione di questa funzione una strana creatura sembra affarciarsi da un angolo è difficile capire che cosa possa essere comunque questo è ciò che è stato ripreso il video seguente mostra alcuni ragazzi mentre si divertono a far esplodere alcuni petardi dopo essersi divertiti rivedono ciò che hanno filmato e notano qualcosa di inquietante questo è ciò che è stato ripreso è stato capito ah no eh è stato largo come stava prendendo e ciò che Richard è stato l'avvero iniziare al compagno di 25 anni ho l'ho ho l'ho ho l'ho ho l'ho ho l'ho Una guardia di sicurezza Mentre svolgeva il suo turno di notte Nota qualcosa in lontananza Non sapendo cosa fosse Tira fuori il suo smartphone E incomincia a filmare il tutto Questo è ciò che ha ripreso Alcuni strani fenomeni Sono incominciati ad accadere in questo magazzino A spaventare l'uomo Non sono solo alcuni oggetti Che vengono spostati di qua e di là Ma sembra che in una strana presenza Si aggiri in quel luogo Ciò che l'uomo riprende È davvero spaventoso Questo è ciò che è stato filmato Empezò a caer este desmai L'uomo fa un giro di spezione E riprende questa strana creatura Che rimane lì dietro uno scaffale Ad osservare l'uomo Dopo pochi secondi Scompare Il video seguente È stato ripreso in una casa Infestata da uno spirito manegno La casa è abitata da una giovane coppia Una sera La donna incomincia a gridare senza alcun motivo L'uomo corre subito dalla moglie Per capire cosa fosse successo Una volta lì Trova la moglie sul letto svenuta Dopodiché Incomincia a sentire degli strani rumori Provenire dal bagno Quel che succede dopo È davvero terrificante Questo è ciò che è stato ripreso Alla prossima a 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 video davvero terrificante immaginatevi di essere voi al posto di quell'uomo cosa fareste domanda molto difficile vero bene ragazzi il video finisce qui spero che i filmati vi siano piaciuti io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao a 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